Ciao a tutti! Vieni da Luciano! Gigi, Gigi! Sapete i sapore importanti in 2018? Yes! Aradenz 99! Vai qui da neò! DJ! Va, va, va! E vai, e vai, e vai! Pronti, eh? Pronti che lo facciamo partire con le mani! Alcino! DJ! Fidano! Aradenz 99! E vai qui da neò! Va, 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 va! Va, 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 va! E vai qui da neò!